ciao ragazzi, Remo e Diletta in volo, finalmente qua a Normo dopo tanto tempo è una bellissima lista, mamma mia esatto, voi vuoi andare sul paese, sul paese dall'alto e vuoi andare sulla montagna eh, sulla montagna vogliamo andare sul paese, vuol la montagna la montagna, ok mamma mia questa è una piccola termica abbiamo preso una piccola onda e questi sono i suoni che tu dicevi prima quando ti ha visto della pressione questo è il rumore che sale, scende mamma mia siamo veramente alti ma oddio, non è che siamo molto alti adesso ho aumentato un po' la velocità per andare dobbiamo arrivare sopra il vento e finchè non superiamo quella cresta lo risaliamo, capito? ho capito e allora dobbiamo andare molto avanti ho capito mamma mia mamma mia e dopo dovete calare senti tanto che tanti? eh, tanti, senti come ti... adesso ho superato piano, 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 ce ne andiamo quella direzione ce ne andiamo proprio dove sta quella vela lì oddio che bello com'è, ti piace? vado a morire mi giuro poi è una cifra che volevo farlo perché l'ho prenotato a marzo no, a gennaio a marzo che dovevano riaprire le attività boom, pandemia mondiale tutto chiuso, tutto bloccato c'è gente che ha prenotato agosto con plani saltati no, vabbè lascia stavolta sono stati molto bravi come infortunati mamma mia, sì, veramente io ho detto che adesso le prenotazioni io le prendo scadenzate perché non è che mi posso permettere di portare troppa gente in volo in questo momento è nostro, è certo no, ma infatti vediamo che questa situazione cambi rapidamente completamente e ci permetta la libertà totale ci guarda che difficile ma soprattutto per noi che facciamo questo lavoro non è plausibile questa situazione no, ma con tutte queste cose in sicurezza è complicato poi gestirsela come stavo dicendo prima trazie e fare sicuramente molto da questo lato qua è entrato molto da nord-ovest tanto è vero che in Polviposti siamo veramente piantati e dobbiamo cercare di salire e dove saliamo? salita in quel punto lì perché in quel punto lì c'è con l'anfiteatro si che fa salire e richiama l'aria esatto bravo ho imparato al migliore poi c'è tutta la versione precedentemente grazie proprio io se mi sento lusingato da questo complimento che non merito però la lusinga più grande è che mi mandate i vostri amici amichetti mamma mia quando le ho raccontate miei amici oddio mi sento male voglio farlo anch'io e poi la maccherina te la puoi fare un'unità in giù guarda no ritira un po' vediamo 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 ma immagino che video sarà più non so ma sto a destra e manca stiamo salendo sì sì dove avevo detto che sono salendo qui andiamo ancora andiamo un po' avanti Questa è la sera quando si vola con la restituzione bellissimo perché ci voli proprio a filo madonna che bello poi sono proprio a stradionale infatti io ti chiamano la cura di venti perché all'interno non è in casa e poi se vedi c'è un filo in mezzo e qui ci vanno a camminare con la sua cliente quindi posso scendere dei ruoli no madonna tanto non so se ce la farei mai che bello che è poi immagino che volare da sui deve essere una sensazione si beh è molto diverso questo è come guidare un camion quando voli da solo hai sensazioni molto più dinamiche è tutto un altro volare però è bello ma guarda ti ripeto le ragazze da noi sono poche ma quelle che volano sono molto bravissime ma proprio perché è una questione se le ragazze scrivono meglio fanno tutte le cose poi la ragazza è multitasking noi invece ragioniamo come a senso unico capito seguiamo una freccia e seguiamo la freccia invece le ragazze e le donne normalmente riescono a fare molti più ragionamenti insieme insieme anche più cose insieme e sono tutto un altro interno però hanno anche più paura perchè hanno sai hanno la questione della droga come vengono come si può stare è un po' guarda che mi spiego la rodella com'è? meglio meglio scusami non lo abbiamo volato la rodella adesso ce ne andiamo verso un mamma mia il ragazzo non c'è una camera ragazzo che ci siamo venuti qua all'andare allora dovrebbe essere lui Sì, sì, dovrebbe essere lui con lo shift, perché o è lui o lui è avverrato, perché senti questo suono, questo suono per me è lusino, perché praticamente cosa mi dice? Mi dice che qui c'è un valore molto importante di sanità e io salgo. E giustamente sfruttiamo. Facciamo come salgo, come dicevo prima, per fare l'uccino. Certo, proviamo a mettere il peso un pochino a sinistra, così aiutiamo la vela a virare senza, vedi queste qui, queste formazioni cumuliformi sono tutti cumuli, ma non ti preoccupare, pure se si sposta all'indietro è tranquillo, è probabile che il lacciolo sia legto. Un po' allargo, aspetta. No, scusami, ma c'è scappato il controllo del lacciolo, però anche se il casco va leggermente all'indietro non si scioglie. Non lo tengo, me lo tengo. Perché questa qua è una termica che ci sta attirando tanto, ora noi ci andiamo dentro. Oddio. E praticamente questa ci dovrebbe portare fino alla base. senti, 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 senti come suona, senti come suona. Dai, 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 dai. Quando suona così adesso leggermente giriamo a destra. Bravo, l'istituto non ti ha tradito. Sei subito andata a destra. Bravissima. Sei bravissima, piano piano, tranquilla. Guarda che termicone che stiamo a fare. Musica, non si lega orecchia. Senti come sale, sale, sale. Questo è proprio il classico, sale, sale non fa male. Ok? Lo posso girare perché questo suono mi dice che sto nella scendenza più forte e io ovviamente la giro, no? Certo. Ma che bellezza. Guarda, non ci vedo, guarda come si vedono bene le montagne. Bene, dai, dai, ci sta un po' di postia. Scusa? Qua ci sta un po' di postia, non sai se è sempre così? No, allora, questa postia che vedi è acqua allo stato gassoso, perché oggi è una giornata abbastanza stabile e sotto, sotto i bassi strati, l'aria non sale bene, mentre invece sopra il piano piano che saliamo, adesso l'aria si pulirà perché c'è meno umidità proprio perché viene condensata con questi pulmoni. Molto bene. Però oggi è una giornata molto umida, di solito quando è che non è umido? Vedi la giustizia? Cioè, considera che quando qui, quando qui, quando qui c'è il nord nord est, quando qui c'è il nord nord est, sai come vedi Fonza, Ventoterno? Bellissimo. Il mare lo vedi più, cioè vedi più ampio il mare che la terra. Mamma mia. Quando qui c'è un cielo terzo con venti settentrionali, normalmente, da nord a nord est, pulisce tutto, e tu il mare lo vedi che è uno spettacolo. Mamma mia. Noi siamo a partire da là. Noi siamo a partire da là. Mamma mia. Ecco, il nostro cumulo comincia a tirare meno perché è finita l'ascendenza. Ora vediamo se andando avanti, se andando avanti abbiamo superato quasi tutte le vele perché quella lì che stava sopra di noi è sprofondato. Questo che stava qui sopra di noi, quello è spesso da lui. Noi stiamo cercando di sfruttare le correnti ascensionali che io vedo dall'esperienza. e poi come funziona il parapendico? Si fa la vuota verticale e poi si fa la planata. Certo. Poi dopo, quando si perde la vuota, si rifà la vuota e si rifà un'altra planata. E così si fanno i chilometri. Certo Giulio, tutto a posto, sono in radio, tutte in radio? Sì, perché mi ha appena chiamato. Dimmi pure, passo. Non ho capito nulla, che cosa è successo in decollo? Non ho capito in decollo. Giulio, perdonami, ma sento tantissimo vento, sento tanto fruscio, ma sei in volo ovviamente, no? Non ritrovo l'uomo, sono in volo. Ah, ok, ok. Di che color è la tua vela? Perché forse se stai sull'Arestino sei questo sotto di me. No, devo, io c'è la villa azzurra e il violetto. Sto sotto il dettaglio di norma, adesso ti raggiungo. Ok, ok. Io sto dopo l'Arestino, sto andando verso Cori. C'è un discreto maestrale, diciamo, e anche sto volando. No, no, no. Adesso vedi lui? Lui sta salendo. No, no. Io l'ho visto da sotto perché tutti quelli che stanno sotto sono i miei amici. Quelli che stanno più in alto di me sono i miei nemici. Perché loro mi indicano dove si sale quelli che stanno sotto. Certo. Mentre invece quelli che stanno sopra se li guardo è finita. Certo. Vedi, senti, senti. Adesso giriamo leggermente a sinistra. Brava. Spastiamo un po' il corpo. Buon anno che bello. Senti, stiamo salendo. Ma davvero tanto. Lui ci viene sotto perché comunque sta seguendo l'ascendenza. Noi stiamo un po' più alti. Seguiamo anche noi l'ascendenza e adesso cerchiamo di entrare nei cumuli. no? Cercherò di farti avere la sensazione di entrare dentro la nuvola. Oddio. Od mio Dio. Ovviamente sono 100 euro in più. Vuole nuvola. No, scherzo. Ovviamente. Beh, l'ammazza di essere veramente... E tu come ti sei avvicinato a questo sport? Guarda, io quando ero molto 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 piccolo, ti parlo di tantissimi anni fa, quando tu ancora non eri nata, perché io ho comunque 47 anni e vedevo il programma. Faccia, ti parti benissimo. Non ti avevi mai dato i 47 anni. Grazie cara, sei gentilissima. Anche tu sei bellissima, lo voglio dire qui in video diretta. Ti vengo, Tiago. Ti ha tena stretta la ragazza. È interessante. Praticamente guardando un programma di avventura che si chiama Jonathan Dimensione Avventura con Ambrogio Foga, che era un programma molto vecchio che parlava di sport estremi. Mi sono innamorato del volo perché c'erano solo però i deltaplanisti all'epoca. Eh, bravo. Quando io ho intrapreso la scuola di volo io volevo fare il deltaplan. Certo. E il mio istruttore in realtà mi ha detto no, guarda, facciamo prima il parapendio che è più facile, ti diverti, vai in volo subito, bla bla bla, tutte cose che insomma poi effettivamente erano vere, però il volo col deltaplan, secondo me, sì, è molto diverso perché lì rimane proprio il volo dell'uccello, cioè il volo dell'uccello, la posizione, la sensazione. qui la vela è molto distante da te, no? Abbiamo quasi a sei metri sulla testa, mentre invece col deltaplano ce l'hai proprio... No, ma non ti preoccupare, lascia tu pure. Sto sopra di te. Ecco, quando si sento qua. Vedi, adesso stiamo quasi entrando in nuve, vedi, siamo arrivati sulla più unità della nuve. Sì, oh mio Dio. Adesso farò un altro giro, poi usciamo per questioni di sicurezza, perché sennò non vediamo più. No, no, no. Facciamo un altro giretto, qui siamo in nuve. Oh mio Dio. Quando fa così vuol dire che siamo scesi, perché sotto la nuvola si sale, fuori da una nuvola si scende. Siccome io sto sempre sul bordo, cioè sul bordo di sicurezza, no? Perché poi ci sono anche nuvole che ti tirano su e ti tirano su anche in modo molto forte, capito? E allora, per evitare di essere risultati e perdere il contatto visivo, io preferisco stare sempre bordo nuvola. Si sale di meno, ma sia più sicuro. In gara considera che è vietato entrare in nuve, perché giustamente uno perde la visibilità e magari se c'è un altro pilota in nuve ci prendiamo. Poi ci caramelliamo volando a terra, diciamo, quasi dolcemente. Mamma mia. Comunque, vedi, siamo proprio sotto la base della nuvola. Manca pochissimo. E adesso tendenzialmente, cercando di uscire fuori, forse è la stessa nuvola che esigerà. Però a quel punto aumentiamo la velocità e siamo fuori. Ok? Sì. No. La mascherina. È volata la mascherina? No. Ecco, queste sono le problematiche del covid. Il covid. Mascherina volante. Mascherina volante. Speriamo che la situazione cambii presto. Senti, allora la GoPro, puoi anche inserire là, così ti togli questo cardello. Qua? Sì. Entro premuto fino a quando si spende.